Salve a tutti Youtubers e ben idrati al mio canale e sono Svammarie Andiamo avanti con Battlefield 1 ragazzi Dobbiamo liberare il villaggio E piazzare le cariche Non sarà semplice però Almeno ci provo Mamma mia ma quanti sono Non è semplice per niente Alla prossima Sì io trovo ancora armato Non ce Non ci provo Non so da cominciare Perché sono tanti Non è semplice per niente Questa missione ragazzi Quando affrontiamo mezzi corazzati Cerchiamo di usare le armi degli ottomani contro di loro Granate anticarro, cannoni da campo Qualsiasi cosa riusciamo a trovare E cominci al divertimento Non si può usare questa No To sta a tutti Non si può usare questa E uno è fuori Ce l'ho fatta Non si può usare questa Non si può usare questa Non si può usare questa Diciamo Così Le truppe nel villaggio dovevano essere eliminate Prima di procedere con il piano Vai munizioni Non si può usare questa Mori Mori Basta che non si può usare questa Basta che non arrivano rinforzi Che cazzo No 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 Non si può usare questa Alla caccia Alla caccia Do sta a tutti Do sta a tutti E' un'altra caccia E' un'altra caccia E' un'altra caccia Il nostro obiettivo E' un'altra caccia E' un'altra caccia E' un'altra caccia E uno fuori Da qui non se ne vedo Due E tre Che sarebbe questo qua? Allora 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 Renare anti-car Perfetto Con questa spero di farlo fuori Allora Allora Ok Non ce resta che piazzare le bombe E arriva il treno Si bell'istruzzer no ho capito ho capito ho capito ragazzi ho capito vado vado è l'unica dai 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 spara 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 nooo boom vai 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 ma carica no vabbè suona e poi spara quindi ho capito ne posso sparare un colpo solo ho capito ho capito provamo vai ok 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 fuori si si ho capito nooo se noo ok 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 nooo ok ok non permettere ok 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 ja Grazie a tutti. 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 Sparato tre colpi? Va bene. Questo non va più. Questo forse. No. 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 andiamo da l'altra parte andiamo da l'altra parte due, 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 va bene, va bene e qua, e qua, ho capito adesso come funziona il sistema vabbè ragazzi ci vediamo col prossimo intanto distruggo il treno e ci vediamo subito dopo ciao